Terra Franca, un bene confiscato alla mafia, diventa punto di riferimento per le famiglie e per i bambini di Cruillas. Un quartiere della periferia ovest della città si sta così riappropriando di un'area ideale per la crescita dei bambini, uno spazio a cielo aperto, con un progetto denominato Cura, comunità urbane restituite all'ambiente, che mira a combattere le povertà educative, una proposta innovativa che risponde al forte bisogno di servizi di supporto ludico-educativi nel capoluogo siciliano. Qui sta per partire il terzo appuntamento del progetto Cura, che ha l'obiettivo di riqualificare il territorio e di restituire questi terreni e alcuni servizi alle famiglie del quartiere Cruillas. Qui i bambini vengono, svolgono attività, entrano in contatto con la natura. I laboratori dedicati a bimbi dai 4 ai 6 anni sono a cura di Human Rights Youth Organization, che è uno dei partner principali del progetto. Giocare in mezzo alla natura, scoprire le proprie radici e familiarizzare con i piccoli animali è ideale per aiutare i bambini a sviluppare empatia, sentimenti di solidarietà e cooperazione. Gli appuntamenti sono otto e spaziano dalla musica in giardino alle esplorazioni in natura, ai percorsi e alla scoperta degli alimenti. In particolare noi ci stiamo occupando di questi laboratori di educazione ambientale basati secondo un approccio di educazione non formale. L'idea è quella di far scoprire ai bambini, ad esempio, il ciclo di vita delle piante, la biodiversità del posto. Abbiamo infatti anche una serra della biodiversità con tantissime specie viventi. L'incontro di oggi, nello specifico, si intitola Incontriamo i piccoli animali. La nostra idea è quella di farli familiarizzare con gli insetti, con i piccoli animali che sono presenti sul territorio e anche con le api che comunque in qualche modo anche qui sono ancora presenti perché abbiamo di recente installato un api ariolistico. Grazie a tutti.